ok, ragazzi, cosa facciamo col prossimo gioco? ho qualche idea non lo so, la qualsiasi è andata bene, facciamo una campanzina requie no, 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 no sei un cagassolo, sei un cagassolo è una merda, no, ragazzi, ragazzi, ragazzi anche te fuci è andata bene, magari e dammi di tu 50 euro per il manuale, non lo so e poi no, basta warhammer, sono così, no, basta warhammer dai, usate fatto warhammer quindi cosa facciamo? tu che dici, lui? ah, io un'idea ce l'ho, potremmo fare... grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti no, ragazzi, no dai, ragazzi, scherziamo no, ragazzi, la forza no, 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 no la forza, la forza è... no, 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 no 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 ragazzo scoprile la cura di scoprile let it flow almeno usa usa l'odio musica musica musica